partiamo già benissimo bentornati su radio design e questo è l'istituto italiano di design io sono nicola palumbo qui con me l'ideatrice l'autrice la speaker premio nobel elisabetta inrietti direttamente dalla valle d'aosta esatto con furore di aosta valley questa è la terza puntata se non sbaglio di questo programma che sta suscitando sono usciti i giornali su repubblica sul corriere gente che mi ferma per strada esatto si ha detto grazie dedicato a me un programma invece poi elisabetta veramente brand quindi tu non c'entri niente e lui ci è rimasto malissimo è caduto di nuovo nell'alcolismo per causa di elisabetta oggi abbiamo una novità vi diciamo intanto che parleremo di lo sapete già perché su facebook c'è scritto però per chi ascolta il podcast parleremo del marchio supreme ma prima di farlo elisabetta che vuole sempre cambiare le carte in tavola ha ideato un gioco cioè spiegalo allora in sostanza per la prima parte di questa puntata so che sarà per la prima perché penso che sia abbastanza complesso mandarlo avanti pescheremo appunto un bigliettino con uno stato d'animo e che appunto dovremo interpretare in un certo modo quindi appunto abbiamo qua i bigliettini ora andremo a pescare questo stato d'animo e proveremo a condurlo fino a che sarà insomma ok i bigliettini sono pronti c'è anche il notaio come nei concorsi premi tipo guess my age che ormai è diventato un must allora dov'è il foglietti allora adesso io pesco spero che non mi vada male tipo cose strane non sono anche tutte le cose che sto pescando aspetta ma sfiga mi perseguita allora io pescato vip quindi dovrò fare il primo sono un vip io sono perplessa sarò perplessa allora parliamo cominciamo a parlare un attimo di questo supreme supreme è un marchio che tutti voi conoscete io ho una collezione di supreme a casa di t-shirt da 1500 euro e anche 2000 euro secondo me non è vero ah giusto guarda non ti devi permettere perché è una collezione incredibile allora supreme vi spiego un attimo come nasce la storia va bene io conosco personalmente il james jebba perché noi vip li conosciamo james jebba è chi ha creato supreme nell'aprile del 1944 crea questo marchio di abbigliamento che è per skater io queste cose non le faccio perché vado in giro con la ferrari però per chi ha lo skate e quindi sei perplessa ci sto provando però posso solo usare la mimica baciale perché non so che altro dire è già crollato tutto il sistema ma forse è meglio però comunque lo replicheremo cioè però può funzionare non funziona comunque per tornare serie come nasce questo marchio di abbigliamento nasce per adesso sto facendo il nicola palumbo sto scegliere per gli skater abbiamo detto james jebbia è il suo nome è un britannico che si trasferisce dall'inghilterra negli stati uniti giovanissimo va a new york e con soli 12 mila euro se non sbaglio boia apre il suo primo negozietto in downtown a la fayette street in downtown ok con la particolarità di questo locale che ha un design e il layout di questo negozio erano pensati proprio per gli skater nel senso che era uno spazio c'era uno spazio vuoto al centro era molto accessibile se avevi lo skate c'entravi dentro io ho avuto lo skate da bambino poi ho preso una dentata contro l'asfalto una volta e lì finita la mia storia con supreme sostanzialmente lo stile era inconfondibile di questo store nasce appunto in quegli anni poi come funziona che praticamente in quegli anni questo marchio si lega appunto a questa tribù degli skater e piano piano poi nel 2004 finalmente l'ideatore apre un secondo negozio a los angeles in california quasi grande quasi il doppio diciamo di questo originale con una vera propria pista di skate quindi grandissima boia una figata incredibile il brand poi diventa molto famoso e aprirà poi negozi in tutte le parti del mondo ma ne parleramo ne parleremo ne parleremo un pochino più avanti prima di parlare di queste cose veniamo però al alla nostra analisi perché abbiamo qui la nostra analista dei loghi analista supreme perché si chiama supreme allora supreme il nome supreme viene da un pezzo un pezzo jazz che appunto si si chiama e love supreme di john coltrain e canzone famosissima tant'è che quando ho detto a mio padre che sarei andata a parlare di supreme mi ha subito citato la canzone quindi una canzone molto famosa però io personalmente non l'ho mai ascoltata non so tu nicola io l'ho ascoltata più volte l'ho ascoltata più benissimo l'ignorante della situazione come al solito e bene infatti abbiamo cercato per mezz'ora l'origine poi a un certo punto è spuntata fuori esatto è spuntata fuori e quindi ha un'origine un po' romantica un po non so quanto si sposi bene poi con la filosofia effettiva sì però vabbè adesso ascolteranno la trappa immagino gli skater ahimè me sa ma non è questo il punto ecco che l'ha detto proprio conteremo le volte che dici non è questo il punto uno e appunto questo negozio ad un certo punto ha aperto perché va bene 12 mila dollari ma prima o poi bisogna aprire le porte ebbene questa cosa è stata fatta è stata fatta però appunto questo negozio in origine non è che vendesse cose a marchio supreme perché non era un marchio era un negozio quindi vendeva sì abbigliamento per gli skater però non proprio il marchio però ha detto sai che c'è io ho dato che apro faccio un paio di magliette con il mio logo così non si sa mai mi aspettavo un mo basta ma non l'hai detto basta io le faccio ebbene le ha fatte non una tre tre ne ha fatte tre non dieci tre tre allora una con il semplice logo perché ad un certo punto il grafico si è giustamente annoiato quindi ha detto io moto boot una con dedicata al mood degli skaters anni settanta che non riesco bene a figurarmela quelle prime tavolette tu che ne sai sei giovane però avevano queste tavolone pensavano duemila chili compravano addirittura un albero lo tagliavano loro direttamente ma che ne sai e un'altra maglietta ispirata a un personaggio di taxi driver di scorze scorze sì di scorze di limone ebbene ebbene quindi queste tre magliette detto io mo apro ve le butto lì però appunto in maniera abbastanza disinteressata probabilmente nemmeno loro pensavano che avrebbero avuto tutto questo successo e invece ma non è questo il punto il punto è che però detto tutta sta roba bisogna passare al succo al succo perché il logo supreme è un luogo un po schfica us da un certo punto di vista molto easy molto easy non a caso chi lo fa l'amico di questo dell'ideatore di supreme certamente il cugino cugino amico lui ha fatto questo logo con su scritto su prime basta però questo jebba che sembra il nome di un artista reggae quasi quasi sembra il personaggio di star wars jebba jebba non mi ricordo perché non mi interessa più tanto però ha un nome simile questo jebba ha detto carino ma perché quando un cliente ti dice carino ma l'è il disastro è un problema allora il cugino barra amico di sto jebba ha detto mo che faccio questo qua vorrebbe qualcosa di più particolare non so assolutamente cosa fare al che opla illuminazione c'era un libro un libro di una tale barbara strega kruger che sembra il nome di una cattiva tedesca in realtà è infatti un cognome di origine tedesca benissimo lo immaginavo ebbene questa tizia faceva delle cose anche piuttosto fighe nel senso quasi delle campagne di sensibilizzazione si può dire sì antisistema anticapitalistico qualcosa per appunto portare la gente a riflettere ecco quindi faceva questi lavori grafici dove c'erano queste immagini e sopra appunto queste scritte proprio sulla falsa riga del logo supreme dove appunto c'erano degli slogan delle frasi che invitavano ad agire qualcosa così sì sì infatti c'è un evento no che è molto importante sembra un'interrocazione del liceo sì e te lo dico ti dico anche qual è vai allora un evento del 1989 brava aspetta che prendo sto per segnare il vuoto vai avanti e praticamente appunto lei in occasione di questo ha fatto una sua opera che è appunto molto famosa ha creato appunto questa fotografia con questo viso di donna diviso a metà e dove appunto c'era c'era una frase questo appunto è stato fatto in occasione della marcia per appunto la legalizzazione del dell'aborto in america era questa marcia delle donne a washington esatto quindi insomma la capitale di washington la capitale sto prendendo il vuoto vai avanti io sono perplessa giusto se ti giochi la carta c'è un bambino che ci fa le faccione incredibile ciao bimbo idolo ebbene ma non è questo il punto il punto è che ho perso il punto ma anche che lo ritrovo ecco siamo a quattro perché ho trovato il punto il punto è che questa signora maledetto il bambino col faccione che non ci capiscono cazzo ha detto che no faceva tutte queste cose un sacco fighe cosa c'era scritto su questa campagna c'era scritta your body is a battlefield ecco benissimo c'è il tuo corpo è un campo di battaglia ed era riferito a questa campagna sulla legalizzazione dell'aborto sì insomma faceva tutte queste cose anche a livello concettuale molto interessanti comunque non era la prima pirla esatto non era insomma erano talmente interessanti anche dal punto di vista grafico perché lei questi slogan li metteva proprio appunto in questi box rossi con queste scritte bianche erano molto molto di impatto allora questo cugino di jebba ha detto sai che c'è molto piglio e se l'è pigliato quindi ha stupito il buon jebba ha detto va che roba che tu faccio e jebba è la madonna ma è bellissimo musica c'entra niente ma a questo punto buttiamo frasi così però non mi hai detto scusate ma abbiamo parlato già del logo ma non mi hai detto qual è la font il font nicola palumbo faccio web marketing scusate il font ci sarei chiaramente arrivata è un futura un futura bold oblique non so come si legga un pochino propenso verso in italica ok chiamola così ok e qui è un font molto popolare che ha salvato il culo a molti gravidi perché che font ci butto ci butto in futura ed è fatta e questo font appunto è stato poi grazie a questa ispirazione che hanno avuto da questa è stato appunto inserita questa scritta all'interno di un box rosso quindi è anche è stato cognato insomma questo nuovo termine che è appunto box logo e la forma contratta è bogo quindi quando parlano del logo di supreme dicono bogo e quindi questo io lo so c'è bogo può sembrare anche un'offesa non lo è nel caso ti ringrazio in realtà non lo è offesa indiretta e bang vuoi continuare a dire qualcosa andiamo avanti a questo punto abbiamo scoperto diciamo l'origine del di questo logo quindi questo bogo e la storia va avanti cosa è importante da dire su sulla diciamo da un punto di vista del marketing che volevo dire prima è che sulla distribuzione del prodotto cosa fa supreme fa una una strategia che è stata poi ideata e creata non tutti conoscete l'harley devinson quelle moto truzze ce l'ha anche mio fratello ciao enrico sei truzzo anche tu che sei truzzo hai questa harley devinson che è diciamo un marchio storico nato credo alla fine dell'ottocento quindi sono stati i primi tra i primi a creare i motocicli se non i primi in assoluto qual è stata la forza diciamo di vendita di questo prodotto che poi ha usato anche supreme che usano anche tanti marchi non a caso anche il cucinelli che qui vicino ha usato la stessa strategia cioè controllare totalmente il sistema di retail quindi di rivendita cosa fa supreme non è assolutamente un franchising non puoi dire o scusa jebba vorrei aprire un negozio su prima perugia dice mo basta lo faccio io quindi loro controllano totalmente loro a perugia avrebbe un grandissimo successo ci saranno vendono ovunque quindi figurati però la non puoi farlo perché loro controllano la come fece appunto harley devinson controllano totalmente tutto la rivendita quindi tutti i negozi che trovate supreme nel mondo sono controllati da supreme direttamente lo stesso fa cucinelli che credo abbia sui 200 punti vendita nel mondo e una cosa le accomuna cioè la città di tokyo perché ti ricordi andiamo di nuovo nell'interrogazione attenzione che tokyo la città che ha più negozi supreme l'hai detto tu ah scusa lo stavi dicendo se me lo c'è in rigidità tipo volotico vabbè l'ha detto lui meglio così perché non avrei saputo come approfondirlo ci sono più negozi a tokyo che diciamo negli stati uniti è una cosa incredibile sono stilosi però tu hai tantissime cose a dirci invece in merito a gadget o le cose strane che su prima credo nel tempo però abbiamo comunque dimenticato una cosa molto importante un sacco di cose molto importanti non so se le diremo dopo le diciamo adesso no diciamole vai che appunto per questa storia della kriga perché la kriga sei anche un po' incazzato perché ha detto che cazzo però tu mi rubi tutta la cosa io non dico nulla e no ragazzi sei incazzata sei incazzata e appunto c'è stato un dibattito un qui pro quo esatto però la kriga che non è un piatto tedesco che non è un piatto tedesco tutta staggia di guerra non aveva i diritti su quello che faceva e quindi il buon Jebba Jebba versus Kriga il buon Jebba ha detto basta si stavo perdendo la morgarità però appunto ha detto sono problemi tuoi benissimo ti ho salvato ti ringrazio e quindi anche perché poi questa tutto questo sistema grafico della kriga se lo sono presi in molti ce ne senso l'hanno copiato in molti infatti lei ha detto voi rappresentate proprio tutto ciò contro a cui io sto andando quindi c'è stato anche un po' un paradosso perché infatti vabbè però faccio tutte ste grafiche fighe per dire che il mondo fa schifo e fa schifo effettivamente e poi vendete la roba alle fave con lo stesso sistema ebbene e poi c'è un'altra cosa interessante da dire dicela Elisabetta te la dico dai te la dico allora appunto anche per questa cosa dei diritti la Supreme se ne è sempre abbastanza fottuto dicevo ci ha detto ma che ce ne fotte tante chiste diciamo noi quindi in questo box questo box non è sempre rosso è un po' camaleontico perché muta come Elisabetta ogni tanto bravo quindi appunto ci hanno buttato tutto ciò che potevamo buttarci e appunto ci hanno buttato delle opere famose quindi ritroviamo anche questo box in questo box delle opere di Pollock oppure ci hanno anche proprio buttato dei pattern famosi tipo quello della Louis Vuitton quello della Guzzi Guzzi esatto un sacco di cose e non avevano il diritto di farlo in ogni caso se ho ben capito ragazzi poi posso sempre sbagliarmi ma penso di non sbagliarmi perché tant'è che la Louis Vuitton ha detto mo bacio io ti faccio causa tu che cazzo sei io ti faccio causa ha fatto causa nel 2002 acquisita campana oramai poi che è successo eh bravo te lo dico nel 2002 la Louis Vuitton ha detto mo bacio quindi ecco ha fatto causa alla Supreme però 17 anni dopo hanno iniziato a collaborare e quindi in realtà non c'è stato tutto sto gran dibattito perché poi in realtà dopo hanno collaborato facendo delle cose che costano anche un fracco di soldi detto gentilmente sì e ebbene ma appunto questa mutevolezza del box si riflette anche appunto nelle in diverse situazioni anche quando vanno a aprire un negozio store all'estero esatto bravissimo vuoi dirlo tu no nel senso questo l'abbiamo è quello che dicevamo prima cioè di il fatto che ci sono diversi negozi nel mondo abbiamo parlato di Tokyo ma ce ne sono anche a Parigi ce ne sono a Londra e c'è una notizia una cosa figa che riguarda proprio il figa il terremoto in Giappone non è una cosa sì un terremoto che ha causato questo megatsulami sapete tutti la storia migliaia di morti per diciamo per commemorare tra virgolette l'evento Supreme ha modificato il suo il suo logo in onore diciamo della croce rossa giusto esatto esatto infatti appunto ha modificato questo logo perché appunto le nazioni in cui apre Supreme appunto la bandiera delle nazioni viene riportata all'interno del box quindi c'è con la bandiera dell'Inghilterra eccetera è stato fatto con la bandiera del Giappone in occasione di questo avvenimento e appunto la Supreme ha fatto una cosa che comunque è stato un gesto figo bello e ha donato appunto queste magliette alla croce rossa del Giappone quindi sì questa è stata una cosa molto bella guarda come è calato come è tristezza oh mio Dio torniamo immediatamente a ridere esatto ok facciamolo benissimo i gadget della Supreme che sono qualcosa di un sacco divertente perché hanno fatto le cose più disparate sì allora innanzitutto che è successo hai sputacchiato dentro il microfono no no è che ormai io questo microfono lo prendo a dentata è sempre un tacchino cioè continuo non capisco Federico Russo intanto ci saluta anche Luz saluto tutti colgo anche l'occasione per salutare mia sorella in mezzo alla puntata così perché non hai salutato la nonna la nonna saluto tutta la famiglia facciamo così che facciamo prima e vaniglia soprattutto e vaniglia che è un cane ricordiamo ebbene comunque non è questo il punto il punto è che siamo a sei il punto è che alla fine della sudata continuo a sudare sì fa un po' caldo qui a Beste benissimo i gadget i gadget allora un portachiavi della Supreme quanto costa? 5 euro no 8 euro devi salire 60 euro ragazzi sta facendo lo gnorri lo so perfettamente voglio mettere fino a questa farsa e comunicare anche a voi questo scempio vai quanto costa? il logo della Supreme costa 90 euro il logo il portachiavi costa 90 euro una cosa di plastica 90 euro per delle cose che perderai probabilmente e se lo rivendi quanto costa? tantissimo no questa non è una domanda a caso perché c'è un mercato nero gigantesco delle cose Supreme vuoi parlarne tu se vuoi va bene c'è un mercato nero gigantesco perché se compri questo portachiavi a 90 euro e l'abbiamo visto in un video su YouTube di uno YouTuber vestito in modo orrendo sceno secondo lui ovviamente aveva una una felpa Supreme tutta colorata in modo strano cosa diceva questo tizio che se vai a cercare su ebay o su altri siti di rivendita appunto di robe usate puoi trovare questo portachiavi che arriva fino a 400 euro o robe del genere quindi e ci sono anche altri oggetti estremi dici un po' sì beh allora a parte un oggetto non così estremo sono gli occhiali da sole che sono un oggetto tra l'altro che non c'entra un tubo con la puntata ma parliamone perché io vorrei parlare dell'inutilità ogni tanto degli occhiali da sole io personalmente ne ho comprati tantissimi non ho mai capito quando li dovevo mettere e mi davano fastidio entriamo nel negozio non sapevo se tirarli su tirarli giù a livello sociale è anche brutto è brutto perché poi la persona con cui parli tu ti rifletti nei suoi occhiali ed è imbarazzantissimo perché è come se parlassi con te stesso insomma io gli occhiali da sole la politica non la condivido però chi la condivide e chi ama il marchio Supreme è disposto a pagare 800 dollari per un paio d'occhiali che perderai in montagna dopo una gita ecco oppure al mare sì dove ti parla a te insomma li perderai probabilmente e mi dispiace però se poi tu vuoi hai voglia di investire i tuoi soldi in qualcosa di ancora più inutile ma sicuramente particolare qual è l'oggetto proprio più più inutile ma utile è utile però secondo te che hanno fatto secondo me un oggetto inutile può essere le borse cosa serve una borsa sto sfidando una donna in questo un oggetto un cose che suonano no un mattone cioè una persona si sveglia la mattina e dice io avrei proprio voglia di comprarmi un mattone perché voglia così di comprarmi un mattone se una mattina vi svegliate e avete voglia di comprarvi un mattone sappiate che la Supreme quanto costa 5 euro 3 euro quanto costerà un mattone dai ditecelo voi da casa eh dai non tanto non ci scriveranno quanto costa un mattone un mattone non lo so un mattone della Supreme costa 400 dollari ragazzi 400 dollari ragionevole ragionevole direi di sì tant'è che è stato fatto un calcolo e se qualcuno si volesse fare una casa con i mattoni Supreme andrebbe a spendere solo di mattoni 5 milioni di dollari poi non so che casa sia però una casa penso abbastanza grande quindi solo così 5 milioni di dollari dammi una penna voglio sto firmando voglio ho appena ordinato 5 milioni di mattoni di dollari di mattoni di dollari ma un'altra cosa curiosa ancora più diciamo questa è è molto provocatoria ancora di più del mattone è proprio la cacca d'artista no aspetta mio padre forse ha messo una faccita ridono 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 e allora una cosa ancora più strana è che hanno fatto un remake della Bibbia ragazzi della Bibbia una Bibbia porta soldi io ce l'ho è vuoto però ce l'ho è vero no non ce l'ho e ha la faccia di come stai attenta qui c'è la religione di mezza no volevo dire la faccia del salvadanaio stavo dicendo la faccia dello salvadanaio eh caspita perché altro che il maialino questi hanno la Bibbia che costa anche lì 450 dollari che se io la comprasse non avrei nulla da metterci dentro invece c'è chi può metterci dentro anche le cose beati loro io al massimo ci metterei quei 20 centesimi che avanzano dal caffè ogni tanto e voilà quali altri oggetti estremi abbiamo? allora estremi no no ma però insomma cioè che una persona che vuole fare a botte con stile su prima ha pensato anche a lei perché c'è tutto nusette un boxer non tamarro ma con i soldi perché quelli che fanno box diciamoci un po' tamarri secondo me sei tamarro abbastanza ho amici che fanno box guarderanno il video e mi diranno che sono uno stronzo no vabbè non so che dire non conosco nessuno che faccia box però sicuramente non lo so vabbè io conosco un professore universitario che fa box sarà simpatico sì simpaticissimo lo salutiamo ciao Jacopo dal Brasile ecco fatto e comunque se questo fantomatico Jacopo volesse comprarsi lo diciamo un set di da box tutto il set con l'accappatoio quello che poi arrivi sul rint lo tiri giù e tutto il tappetino la corda e soprattutto il sacco da box con supreme bello stampato su tutta la superficie costa ecco 21 mila dollari quindi nel caso Jacopo volessi comprartelo spero che tu abbia tanti soldi non lo so perché lui fa questa palestra popolare nelle favelas di San Paolo do Brasil io penso che con 21 mila dollari costruiscono proprio una palestra da zero benissimo ecco allora mi dispiace Jacopo è finita in tragedia Jacopo ci dispiace molto e poi se qualcuno fosse stufo della sua graziella verde acqua vorrei comunicargli che Supreme ha pensato pure a lui bene io sto pensando appunto di cambiare la mia graziella esatto allora se hai 47 mila dollari da investire in bicicletta si può fare che poi se vai al mare te la rubano perché te la rubano puoi prendere una bicicletta di Supreme beh io potresti darmi il link dopo vado faccio un passaggio lo compro bene abbiamo avuto tutti è fantastico caspita ma una cosa un'altra cosa carina e questa è carina davvero cioè più o meno però insomma rispetto a tutte queste hanno fatto anche un biglietto della metro e ridere che qua ho scritto bicletto un bicletto della metro sono brava spicrina complimenti un bicletto della metro che però clanto costa un cesgritte mi sembra 5 dollari costasse ma non è questo il punto il punto è che ha fatto ridere la cosa perché appunto è stato venduto solo in delle stazioni selezionate in America non mi ricordo bene in che città penso a New York sì a New York a New York la metro di New York e quindi appunto si sapeva che c'era questa cosa ma non si sapeva in quale stazione quindi c'era tutta una calca di gente che voleva sto biglietto della Supreme ma solo pochi fortunati sono riusciti a prendersela e poi l'hanno rivenduto a un palanche di soldi mila dollari migliaia di migliaia di dollari perfetto e quindi questo insomma è un brand molto amato dai millennials il brand che dicono essere più cool e quindi insomma per noi VIP sicuramente io sono un po' perplessa però se devo dirti la verità mi perplima un po' questa storia in ogni caso questo 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 una cosa che abbiamo dimenticato di dire in tutto questo discorso boia è che eh Giabba non riesco più a ricordarmi il nome Jebba in realtà è Jebbia se ho scritto bene non come figletto James Jebbia che è questo cognome improbabile ha registrato il marchio solo nel 2015 boia cioè dal 1994 al 2015 lui non ci aveva il marchio registrato quindi chiunque avesse voluto questo questo tra la Kruger e poi questo Kruger versus Jebbia è una cosa estrella per chiudere poi il discorso volevo solo accennare a questo fatto cioè abbiamo spiegato un po' il sistema del retail ma un'altra cosa figa è che come tutti i grandi marchi non proprio luxury però comunque i marchi che hanno un posizionamento alto giocano molto sull'esclusività e la limited edition non a caso Supreme che cosa fa rilascia le collezioni una volta sola all'anno rilascia solo 10-15 capi o accessori per volta ok che si chiamano drop quindi drop lo lancio sono venduti online ogni settimana il giovedì alle 11 di mattina ora americana quindi tutti collegati tutti collegati che si lanciano e questa cosa crea tantissimo hype wow questa cosa mi ricorda anche un e-commerce svizzero più figo che c'è che usa la stessa strategia praticamente loro hanno questo e-commerce che non ha stock di prodotti come il classico appunto Amazon che conoscete tutti loro vendono ogni settimana solo un qualcosa di veramente esclusivo e fanno questo giochino appunto del tipo alle ore tot noi vendiamo loro hanno venduto tipo sei Tesla che sono le auto elettriche che costano l'ira di Dio vendono sei Tesla alle ore 11 però tu la puoi comprare a un prezzo molto più ribassato la stessa cosa accade Boia con Supreme che crea questa strategia che si basa sul fattore di hype quindi creare un'altissima tensione ogni volta sul prodotto cosa che fa anche Apple insomma però qui il discorso sarebbe veramente lungo e noi ci non ci dobbiamo dilungare più di tanto anche perché abbiamo detto veramente un botto di cose Boia pensavanti non parlare ma ragazzi poi diciamocelo c'è stata una preparazione incredibile dietro questa puntata perché siamo andati a vederci un video che era totalmente in inglese e nonostante le nostre ampissime conoscenze della lingua inglese è stato complicato quindi abbiamo anche scoperto cosa vuol dire CloudFuck tu pensa andatelo a cercare che non mi ricordo si è già dimenticato cosa vuol dire però ci sono due tuoi amici italiani che sono sponsor diciamo testimonial di Supreme chi sono? eh beh amici poi allora no chiariamoci ci sarebbe un ampio discorso il tuo amico Tamarro tatuato ovunque non lo stimo a livello musicale chiariamoci però il buon Fedez ha una grandissima collezione di magliette Supreme ha un armadio pieno di magliette Supreme grande quanto tutto il mio appartamento ebbene lui anche appunto ha acquistato anche appunto mi sembra il bauletto di Supreme per Louis Vuitton io li seguo assolutamente ragazzi mi dispiace ognuno ha i suoi segreti sui problemi aggiungere io sì lo metto sì Fedez è proprio cioè ha un accordo commerciale con Supreme quindi non è che si diverte più di tanto a metterseli lo pagano cash sostanzialmente e in ogni caso sì non so se la Ferragni indossi qualcosa di Supreme ma in ogni caso siamo lì sì ecco quindi abbiamo anche citato i Ferragni e se possiamo intanto la gente ci saluta da fuori ci dicono tutti che siamo degli idoli e questo non può che farci piacere mi lanciano dei baci è stupendo bene abbiamo detto di tutto di tutto e di più ecco l'abbiamo fatto è stato bellissimo e io chiudo il taccuino chiudi il taccuino noi chiudiamo la diretta chiudiamola nel modo però con cui appunto l'abbiamo iniziata voi non siete nessuno e io sono VIP quindi adesso appena chiudo qui vado al billionaire e ho prenotato un albergo intero con dello champagne ciao ah tu sei perplessa giusto l'abbiamo dimenticato ciao ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti